Milanesi Camilla Vai ci siamo, sei pronta? Allora, che studio hai fatto? Allora io ho fatto liceo artistico Cassinari e dopodiché ho fatto un master di un anno di fotografia presso un'accademia di Milano Oggi la tua passione è il make-up, giusto? Sì, è una delle mie varie passioni oltre alla scenografia e gli allestimenti Il lavoro con tua cugina, ne parliamo perché rimane un progetto nel senso le due strade si sono intrecciate e proseguono Esatto, perché Cecilia è il make-up artist e noi abbiamo ben incominciato facendo fotografie alle nostre amiche che ci facevano da modelle, lei truccava, io fotografavo Prima è stato un gioco il trucco e l'aspetto, diciamo, la cura della persona Poi però, dato che mi interessava molto, ho detto studiamo veramente e quindi oltre che all'aspetto del dettaglio, dell'oggettistica del fondale, del dettaglio della porta di qualsiasi cosa che può essere scenografico ho detto concentriamoci anche sulla persona e quindi niente, abbiamo creato questa collaborazione che, cioè lei con la foto e io così assantuariamente collaboreamo Perché hai scelto questo, questo che poi è un'arte, no? Si può dire Perché, diciamo così, è nato tutto grazie a mia mamma che aveva questa grandissima passione per la fotografia a lei quando ero piccolina e quindi negli anni mi ha passato questa passione e inizialmente è nato tutto un po' per gioco nel senso che magari lo facevo un po' con le mie amiche si prestavano a farmi da modella, eccetera e poi ho pensato che poteva diventare una professione e quindi mi sono iscritta a una scuola e adesso vorrei che diventasse il mio lavoro Scenografia che hai anche studiato Sì, sì, ho la laurea in scenografia presso la Naba e poi dopo un po' di anni ho deciso di aumentare il mio curriculum studiando anche special make-up presso l'Accademia Nazionale del Cinema a Bologna e quindi, niente, adesso tra poco finirò il master però, sì, faccio tutte e due, diciamo E anche effetti speciali? Sì, anche quello fa di tutto proprio da quello più base alle fierite, le protesi qualsiasi cosa particolare Che cosa serve? Che qualità ci vogliono per diventare una buona fotografa in questo caso, secondo te? Studio, preparazione, ma anche quale talento? Studio, preparazione perché comunque, nel senso, il giorno d'oggi con i telefoni, tutti e molti si improvvisano un po' fotografi, lo sono tutti con i social network, eccetera quindi la preparazione è una buona scuola dove si impara la tecnica sicuramente tanta determinazione perché comunque c'è tanta competizione ce ne sono veramente tanti di fotografi quindi sicuramente determinazione Cosa ti piace fotografare? In che cosa ti stai specializzando? Ma, mi piacciono molto ritratti piace molto fotografare le persone e, sì, le persone in qualsiasi situazione l'anima delle persone Dal cinema alla vita normale diciamo che già parti dal presupposto che il prodotto è completamente diverso per la primissima cosa perché ci sono ovviamente dei prodotti un po' più, come dire carichi e pesanti che hanno molta più durata lunga durata rispetto magari a un trucco più leggero che è, diciamo che deve anche far traspirare un po' di più la pelle durante tutta la giornata mentre quando sei su un set a parte che c'è il truccatore che ogni 2x3 è lì che ti deve ritoccare ovviamente perché sei fissa sul set quando trucchi però, diciamo che deve durare molto di più poi quando uno ti trovi davanti a una persona ovviamente devi prima di tutto studiare la pelle perché ovviamente devi capire che tipo di pelle ti trovi davanti se è secca se è grassa se è mista ovviamente i tratti del viso devi ovviamente esaltare i punti di forza e nascondere i punti deboli che cosa ti chiedono le persone? chi è che si fa a fotografare oggi? perché come dicevi tu alla fine con i telefonini insomma è più facile anche avere immagini di sé chi è che si rivolge a un fotografo professionista? ma adesso come adesso vanno tantissimo fotografie dei bambini principalmente ci sono tante famiglie che magari ci tengono ad avere la foto del bambino ricordare il momento in cui il bambino era piccolino quindi magari piuttosto che i newborn che sono le fotoclassiche fotografie magari del bambino che si fanno a 15 giorni di vita fotografie di famiglia appunto la mamma col bambino la famiglia tutti insieme sono le fotografie che in questo momento vanno per la maggiore cosa ti capita di lavorare qua a Piacenza adesso ma non solo o parli valentemente qui ma allora mi è capitato verso Milano e verso Roma perché comunque ho cercato di lavorare anche a Roma nel cinema perché mi piacerebbe molto lavorare nel cinema e quindi qua in Italia il posto in cui bisogna andare purtroppo è Roma Milano è più pubblicità e fiction diciamo e quindi sì mi è capitato ho avuto la fortuna di lavorare presso una casa di effetti speciali proprio e sono stata molto fortunata e ho fatto anche quello quindi un po' di tutto faccio faccio sia il video musicale che la spot pubblicitario che il cortometraggio che il film un po' di tutto ecco abbiamo fatto che i servizi fotografici che matrimoni matrimoni no allora non mi è ancora capitato di truccare una sposa però ho truccato damigelle ospiti veramente tantissime volte mi è capitato molto molto spesso lavorando anche dalla tua mamma sì 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 perché lavoro faccio oltre che al trucco che vabbè essendo un centro estetico ovviamente può capitare la cliente che chieda il trucco normale oppure per una serata per un aperitivo anche ci sono quelle che chiedono però facendo anche il trucco semi permanente per le sopracciglia sono fissa lì e quindi mi capita di lavorare molto spesso da mia mamma ecco a Piacenza riesce a lavorare qual è il tuo obiettivo adesso a questo punto? a Piacenza ho appena incominciato nel senso che appunto ho fatto un po' di esperienza a Milano in tutt'altro ambito qua a Piacenza appunto mi piacerebbe puntare su principalmente ritratti l'obiettivo è quello di andare a lavorare magari nei posti un po' più con mentalità più aperte con più possibilità soprattutto però non snobbiamola Piacenza assolutamente a me ha dato da lavorare anche se comunque è poco perché ovviamente le nostre foto quando ci viene in mente di fare qualcosa di particolare le facciamo soprattutto per noi perché ci piace anche fare qualcosa di appunto ricercato ovviamente il cliente magari ti chiede appunto come ha detto lei una cosa di famiglia molto più semplice normale che ormai tutti più o meno fanno mentre noi vogliamo fare qualcosa di diverso più artistico eh sì qualcosa in più ce l'abbia anche la moda ancora sì mi piaceva tantissimo io avevo fatto questa esperienza a Milano che seguivo un fashion blogger e quindi comunque è una cosa che poi la moda è un'altra mia passione e quindi accomunare queste due cose a me è sempre piaciuto ovvio che la piacenza non è tanto semplice non è facile però mi piacerebbe e tu sei appassionata di moda? sì anche sì 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 diciamo che non seguo tutto perché ci sono molte cose che non mi piacciono ecco però diciamo che ho un ho un mio gusto e c'è lo ricerco ecco mi piace molto come ambiente di lavoro no assolutamente no la moda no ci ho lavorato e no non fa per me assolutamente perché vabbè tutti gli ambiti hanno i loro pregi e difetti ovviamente però in ambito della moda ne ho trovati veramente tanti di difetti e quindi preferisco che ne so teatro cinema ecco mi piace molto di più come ambiente foto tue ti fotografi ti piace vedere la tua immagine oppure no no molto raramente mi piace stare al di là della telecamera no proprio ho detto telecamera della macchina fotografica e no mi faccio anche pochissimi selfie e altre cose cose varie no no non non particolarmente sono molto timida in questo sicuramente si è visto e quindi non non amo truccarsi e truccare è tutta un'altra cosa e quindi sì mi piace molto infatti chiedo molto alle mie amiche a lei soprattutto così di di farmi da modelle sì sì no però mi piace anche truccarmi non alcune volte vado lo giuro vado anche struccata al lavoro perché magari non ho lo sbattimento la mattina assolutamente però tipo non so magari mi basta un po' di mascara e un po' di un po' di fondo leggero un po' di blush basta sei a posto non serve una costruzione esagerata ecco per esempio adesso io non ho niente di che ho solo il rossetto il mascara e la base non ho niente di così straordinario è nata anche un'idea un po' per la festa della mamma può essere un regalo particolare quello di uno scatto insieme sì assolutamente sto organizzando delle mini sessioni fotografiche per la festa della mamma che appunto è domenica 14 maggio ho ideato questa cosa insieme alla mamma che può essere un bel ricordo appunto per entrambe che può essere sia la mamma col bambino ma ci tengo particolarmente anche che venga magari la mamma adulta con la mamma piuttosto che magari la figlia di 30 anni con sua mamma e farò delle mini sessioni appunto che dureranno una mezz'oretta con una consegna di 15 scatti posso fare dei tutorial? eh sì ma infatti l'abbiamo detto adesso dai lo facciamo perché sì mi piace anche spiegare non sono bravissima però dai ce la metto ecco comunque la pratica e la teoria si fondono quindi sì sì lo facciamo lo facciamo lo facciamo